E' questa nostra Europa così contorta, così fragile che fa certamente migliorata e nata dalle macerie morali e materiali della seconda guerra mondiale e che il futuro di questo continente, di questa unione politica lo dobbiamo scrivere insieme lo dobbiamo scrivere tutti quanti noi, insieme alle cittadine e cittadini intraibili che sono certa, troveranno casa tra pochissimo Christian e impegno totale perché quella è la modalità anche per uscire da questa guerra perché l'Europa è stato anche uno spazio di protezione quello che è avvenuto a via non sarebbe stato possibile in una armazia di altre capitali a est del mondo europeo